Quanti amici di Quantum Talk Radio a miei personali impegni e qualche problemino di salute, ma ormai in via di risoluzione. Sapete, alla mia età veneranda, ma non ancora venerabile, qualche acciacco c'è sempre a testimoniare che questo nostro involucro, questo cappotto, come dice qualcuno, è inevitabile che si logori e cominci a rallentare la corsa nelle proprie incombenze. Al di là del rivestimento, però, tutti gli organi preposti alla coscienza, alla consapevolezza e dallo spirito, se volete, stranamente, acquisiscono sempre più maggior chiarezza. Con ciò voglio dire che, anche se non ci siamo sentiti per un po', molte cose sono comunque progredite e le idee che andrò ad esporvi nel prossimo futuro saranno assolutamente più chiare e consolidate. L'anno prossimo cercheremo di cambiare veramente il format della trasmissione. Il cambiamento più grande sarà la vostra collaborazione. Di questo parleremo comunque prossimamente. Certo, noi partiamo in ogni nostra discussione, e ci tengo sempre a riaffermarlo, da una base strettamente scientifica. Però dobbiamo considerare che negli ultimi anni lo sviluppo scientifico e la nostra conoscenza sono aumentati di pari passo, aprendo una visione della realtà in cui viviamo che lascia spazio ad una interpretazione assai diversa del concetto scienza comprovata dalla sperimentazione e dalla ripetitibilità di questa come assioma imprescindibile fino ad oggi. La stessa avanzata incontrastabile della meccanica quantistica già aveva dischiuso parecchie decine di anni o sono scenari un tempo inimmaginabili e quindi rendendo inevitabili trasformazioni di pensiero considerato anni o sono appunto un mero esercizio accademico o tutt'al più fantastico. Ora che invece moltissimi sogni nel quale lo scienziato ha creduto e che poi la fisica teorica ha confermato, nonostante questi sogni si stiano realizzando lasciano spazio ad una sola considerazione ciò che la scienza può ipotizzare infine può pure realizzare. E a dircelo sono molti ricercatori e scienziati che sostengono non vi sia nessun traguardo irraggiungibile se non per colpa della mancata scoperta o realizzazione di materiali capaci di trasformare appunto i sogni in realtà. Pensate solo al mito di Icaro e vi convincerete subito di questo. Sì, è proprio così. Materiali e tecnologia degli stessi possono creare miracoli scientifici. a sostenerlo proprio i nomi più importanti del panorama scientifico mondiale che voi tutti ben conoscete. Ciò nelle disparate realtà una delle quali la più estrema è quella di viaggiare nello spazio e nel tempo. Ecco, se si arrivasse alla tecnologia per poter entrare ed uscire da un buco nero con una specie di astronave che grazie a particolari condizioni non venisse spaghettizzata ma riuscisse a superare indenne la distruttiva gravità e le sue conseguenze o attraverso un cosiddetto buco di tarlo o wormhole o che si riuscisse a piegare la curvatura dello spazio grazie a particolari motori magari creandosi da sé le condizioni per farlo si potrebbe raggiungere il risultato del comandante Kirk e la sua Enterprise che ci hanno già fatto vivere con l'immaginazione ma stavolta sarebbe per davvero. Ovviamente per immaginare qualsiasi traguardo ci vogliono sognatori in grado di volerlo a prezzo di una vita di studi, ricerche, magari fallimenti e poi ci vorrebbero scienziati in grado di tradurre i sogni in calcoli matematico-fisici inoppugnabili e infine lo sforzo collettivo di tutta la scienza per poter giungere alle tecnologie in grado di tradurre i calcoli in oggetti reali. Poi sperimentazioni, perdita come è sempre purtroppo successo ahimè anche di vite umane e tutto ciò che comunque ha caratterizzato ogni passo evolutivo che l'uomo ha realizzato dal tempo della scoperta del fuoco in poi. Questo concetto, ovvero che l'uomo alla fine riesca a creare ciò che ha pensato, intuito e voluto ci introduce a ciò di cui vorrei parlarvi in questa puntata che vorrebbe essere una specie di stele di rosetta non pretendo tanto ma diciamo per riuscire a interpretare e cercare di comprendere il legame che c'è tra pensiero-idea e la possibile realizzazione dello stesso. Innanzitutto poniamoci una domanda fondamentale e facendolo usiamo il metodo di cui si avvale un investigatore quando deve risolvere un problema perché vedete cari amici ascoltatori noi ormai sappiamo tutto sul cosmo il Big Bang, le galassie, i sistemi stellari, i buchi neri cioè pensiamo di saperlo perché la scienza è arrivata molto in avanti e ci ha trasmesso le conoscenze acquisite le informazioni diciamo quindi diciamo che ci dobbiamo ridimensionare perché sappiamo abbastanza e sappiamo anche siamo consapevoli che siamo solo all'inizio della conoscenza sappiamo che una volta nati dobbiamo sopravvivere e per farlo lavoriamo, costruiamo ci associamo in comunità creiamo villaggi, città, popoliamo continenti cerchiamo anche di tolgerci qualche soddisfazione durante questo breve cammino poi moriamo ed altri seguono le impronte che noi abbiamo lasciato evolvendosi ecco la parola diciamo chiave evoluzione tutte considerazioni in ambito locale di spazio e di tempo a noi facilmente comprensibili orologio alla mano c'è un momento per fare tutto e le giornate passano e le vite passano e le civiltà passano decine di migliaia di anni comunque al massimo centinaia di migliaia per un essere senziente ovvero un essere che ha la consapevolezza di esistere che sa di esistere e le stelle gli ammassi stellari le galassie, gli universi eccetera ci stanno a guardare non è mia intenzione fare filosofia a buon mercato ma mi sorge una domanda spontanea ma perché? a cosa serve tutto ciò? a chi serve? certo ragionando in dimensioni sempre locali noi siamo in grado di darci una risposta anzi mille risposte che si inseriscono in tutti i campi dello scivile umano e la natura è certamente quella che ci risponde subito con cose tipo polvere alla polvere nulla si crea nulla si distrugge perché la natura viene codificata e nascono le scienze e poi un giorno ci accorgiamo che le stelle esplodono che gli universi sono miliardi di miliardi che il cosmo è talmente grande che è impossibile darne solo la definizione ma voglio dire in chiave molto diciamo ironica ma a noi che ce ne fotte di tutto questo cioè vedete di seguire il mio ragionamento lasciamo perdere la nascita della vita la creazione, l'evoluzione i marziani gli Elohim il fatto che siamo degli OGM che qualcuno ci usi lasciamo perdere anche questo qualcuno che sia Dio o Benigni lasciamolo perdere che nell'immensità dell'universo conosciuto eppure di quello sconosciuto ci siano anche i cardassiani i rettiliani e vatte la pesca allora a cosa serve a noi sapere che per andare da qui a Betelgeuse ci vogliono migliaia milioni miliardi di anni luce e che non potremmo quindi andarci mai ma poi perché dovremmo andarci per stare meglio per stare peggio per aumentare la pensione di 10 euro cioè per trovare la fonte della giovinezza o le 77 vergini ancora scusate non so bene il numero e comunque per farci cosa che poi alla seconda saremmo comunque scoppiati insomma quello che sto cercando di dirvi è che se noi e il nostro involucro che ha una data di scadenza che è più breve di quella della bufala campana cioè a noi che ce ne frega di distanze incolmabili e universi paralleli e altre magnifiche realtà che poi vediamo col telescopio elettronico che ci dice che ci sono ma dobbiamo anche avanzare certi dubbi perché insomma quello che sto cercando appunto di trasmettervi è per noi che siamo esseri finiti a che interessa l'infinito se non per questo piacere dell'avventura questo gusto della conoscenza quel che ci spinge probabilmente c'è un motivo ma io non dico che non ci sia però sto ragionando in termini molto locali e quindi se c'è il tempo lo spazio quando al massimo usciamo di casa per andare a filarci nel buco nero del traffico se c'è il tempo per un bagnetto di 40 gradi al mare causa pipì di 100 persone per metro quadro poi ti credo che ti viene la voglia di andare su e inselado o inselado chiaramente allora torniamo seri perché ormai credo abbiate compreso dove voglio dove voglio arrivare o andare a parare insomma solo quando parlo di vedere dovremmo pensare che noi non vediamo nulla direttamente neppure con i nostri occhi che sono un meraviglioso ma sempre un meraviglioso strumento ma pur sempre uno strumento che ci consente di leggere un'immagine né più né meno come l'obiettivo della fotocamera del nostro telefonino trasformarla in impulsi chimico elettrici e inviare questi dati ad una ricevente posta nel nostro cervello che si incarica di leggere interpretarli e rimandarli ad un'altra area del cervello che li trasforma in immagini per noi comprensibili però noi siamo consci che non vediamo tutto e ognuno di noi vede quello che crede di vedere pensate ai colori per esempio ai daltonici ma esistono poi i colori pensate alle frequenze infrarosse ed ultraviolette che noi non vediamo mentre altri animali sì pensate alla minima gamma di suoni che noi percepiamo mentre altri animali sì e così con tutti i nostri sensi e di questo ora parleremo perché mi sorge il dubbio che qualcuno abbia delle spiegazioni in merito anzi lo sappiamo per certo non è che ci immaginiamo tutto che le letture della realtà che ci circonda siano alterate dalle nostre sensazioni emozioni esperienze ed altre motivazioni personali che ci portano a distinguere diversamente il territorio che condividiamo io direi di sì questo in parte assodato e comprensibile ma siccome siamo esseri umani appartenenti ad una precisa specie con un DNA diciamo uguale simile qualcosa del genere a grandi linee possiamo affermare di percepire tutti allo stesso modo ripeto anche se in fatto di percezioni ci sarebbe molto da discutere ma tutto questo perché avviene siamo noi a vedere in modo diverso o è la realtà ad essere diversa per ognuno di noi diciamo che probabilmente sono vere tutte e due le cose il professor corrado malanga che voi tutti conoscerete ci dice che tramite la PNL programmazione neurolinguistica suffragata ormai dalla fisica quantistica è proprio così e ci dice che le sue conclusioni sono dovute a quanto teorizzato da alcuni famosi scienziati di un passato non poi così lontano nel 1982 una equipe di ricerca dell'università di Parigi diretta dal fisico Alan Aspect condusse forse il più importante esperimento del secolo scorso Aspect e il suo team scoprirono che sottoponendo a determinate condizioni delle particelle subatomiche come gli elettroni in quel caso esse sono capaci di comunicare istantaneamente una con l'altra indipendentemente dalla distanza che le separa sia che si tratta di 10 metri o 10 miliardi di chilometri come se ogni singola particella sappia esattamente cosa stiano facendo le altre un fenomeno che può essere spiegato solo in due modi o la teoria di Einstein che esclude la possibilità di comunicazione più veloci della luce e da considerarsi errata e comunque a certe distanze cosmiche anche alla velocità di 10 più 10 per 10 volte quella della luce ci vorrebbero milioni di anni per arrivare oppure più facilmente ciò vuol dire che le particelle subatomiche sono connesse e non localmente il famoso entanglement l'intreccio quantistico di cui abbiamo parlato e parleremo ancora quindi la maggior parte dei fisici nega la possibilità di fenomeni che oltrepassino la velocità della luce ma l'esperimento di Aspect rivoluziona il postulato provando che il legame tra le particelle subatomiche è effettivamente di tipo non locale David Bohm cerebre fisico statunitense ma dell'università di Londra nato nel 1919 e scomparso purtroppo nel 1992 sosteneva che le scoperte di Aspect implicassero la non esistenza della realtà oggettiva vale a dire che nonostante la sua apparente solidità l'universo è in realtà un fantasma un ologramma gigantesco e sprenditamente dettagliato per capire la svalorditiva affermazione di Bohm gettiamo uno sguardo alla natura degli ologrammi un ologramma è una fotografia tridimensionale prodotta con l'aiuto di un laser l'oggetto da fotografare viene prima immerso nella luce di un raggio laser poi un secondo raggio laser viene fatto rimbalzare sulla luce riflessa del primo e lo schema risultante dalla zona di interferenza dove i due raggi si incontrano viene impresso sulla pellicola fotografica quando la pellicola viene sviluppata risulta visibile naturalmente si vede solo un intreccio di linee chiare e scure ma illuminata da un altro raggio laser ecco apparire il soggetto originale quindi la tridimensionalità non è l'unica caratteristica interessante degli ologrammi se l'ologramma per esempio di una rosa questo è l'esempio più classico viene tagliato a metà e poi illuminato da un laser si scopre che ciascuna metà contiene ancora l'intera immagine della rosa anche continuando a dividere le due metà vedremo che ogni minuscolo frammento di pellicola conterrà sempre una versione più piccola ma intatta della stessa immagine diciamo che questa affermazione non è proprio esatta perché si verifica sempre una certa perdita di informazione quindi tanto maggiore quanto più è piccolo il frammento però questo non invalida affatto l'ipotesi dell'universo olografico ma anzi restringe le reciproche influenze delle cose da una precedente inconcepibile infinitezza ad ambiti più circoscritti rendendo tutta la teoria ancora più credibile diversamente dalle normali fotografie ogni parte di un ologramma contiene tutte quelle informazioni possedute dall'ologramma quindi universo olografico ma pure frattalico perché un frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna ovvero si ripete nella sua forma lo stesso modo su scale diverse e dunque ingrandendo una qualunque sua parte si ottiene una figura simile all'originale in particolare in geometria un omotetia composto dai termini greci homos simile etitemi metto è una particolare trasformazione geometrica del piano o dello spazio che dilata o contrae gli oggetti mantenendo invariati gli angoli ossia la forma questa caratteristica è spesso chiamata autosimilarità oppure autosomiglianza il termine frattale venne coniato nel 1975 da Benoit Mandelbrot nel libro Les objets frattals form hazard et dimension per descrivere alcuni comportamenti matematici che sembravano avere un comportamento caotico e deriva dal latino fractus rotto spezzato così come il termine frazione infatti le immagini frattali sono considerati dalla matematica degli oggetti di dimensione anche non intera per quasi tutto il suo corso la scienza occidentale ha agito sotto il preconcetto che il modo migliore di capire un fenomeno fisico era quello di sezionarlo e di studiarne le varie parti separatamente gli ologrammi ci insegnano che alcuni fenomeni possono esulare da tale approccio Bohm lo intuì aprendo una strada alla comprensione della scoperta del professor Aspect per Bohm il motivo per cui le particelle subatomiche restano in contatto indipendentemente dalla distanza che le separa risiede nel fatto che la loro separazione è una illusione era infatti convinto che a un livello di realtà più profondo tali particelle non sono entità individuali ma estensioni di uno stesso organismo secondo Bohm il comportamento delle particelle subatomiche indica che esiste un livello di realtà del quale non siamo consapevoli una dimensione che oltrepassa la nostra se le particelle subatomiche ci appaiono separate è perché siamo capaci di vedere solo una porzione della loro realtà e se non sono parti separate bensì sfaccettature di un'unità più profonda e basilare che risulta infine altrettanto olografica ed indivisibile quanto la nostra rosa e poiché ogni cosa nella realtà fisica è costituita da queste immagini chiamiamole ne consegue che l'universo stesso è una proiezione ovvero un ologramma spero che questo contribuisca a rendere più comprensibile più comprensibile il concetto di universo olografico dobbiamo considerare che oltre alla sua natura illusoria questo universo avrebbe altre caratteristiche stupefacenti se la separazione tra le particelle subatomiche è solo apparente ciò significa che ad un livello più profondo tutte le cose sono infinitamente collegate gli elettroni di un atomo di carbonio del cervello umano sono connessi alle particelle subatomiche che costituiscono un pesce che nuota un cuore che batte una stella che brilla nel cielo tutto compenetra tutto sebbene la natura umana cerchi di categorizzare classificare e suddividere i vari fenomeni ogni suddivisione risulta necessariamente artificiale e tutta la natura non è altro che un'immensa rete ininterrotta in un universo olografico persino il tempo e lo spazio non sarebbero più dei principi fondamentali concetti come località vengono infranti in un universo dove nulla è veramente separato dal resto sicché anche il tempo e lo spazio tridimensionale dovrebbero venire interpretati come semplici proiezioni di un sistema più complesso al suo livello più profondo la realtà non è altro che una sorta di super ologramma dove il passato il presente e il futuro coesistono simultaneamente disponendo degli strumenti appropriati un giorno potremmo spingerci entro quel livello della realtà e cogliere delle scene del nostro passato da lungo tempo dimenticato cos'altro possa contenere il super ologramma resta una domanda senza risposta in via ipotetica ammettendo che esso esista dovrebbe contenere ogni singola particella subatomica che sia che sia stata e che sarà nonché ogni possibile configurazione di materia ed energia quindi dai fiocchi di neve alle stelle e ai raggi gamma insomma dovremmo immaginarlo come una sorta di magazzino cosmico di tutto ciò che esiste si era addirittura spinto a supporre che il livello super olografico della realtà potrebbe non essere altro che un semplice stato intermedio oltre il quale si celerebbe una infinità di ulteriori sviluppi se è vero che l'universo organizzato secondo i principi olografici si suppone che anch'esso abbia delle proprietà non locali e quindi ogni particella esistente contiene in se stessa l'immagine intera dato il presupposto tutte le manifestazioni della vita provengono da un'unica fonte di causalità che include ogni atomo dell'universo dalle particelle subatomiche alle galassie giganti tutto e allo stesso tempo parte infinitesimale e totalità di tutto lavorando nel campo della ricerca sulle funzioni cerebrali anche il neurofisiologo Karl Pivram dell'università di Stanford si è convinto della natura olografica della realtà numerosi studi condotti sui ratti negli anni venti avevano dimostrato che i ricordi non risultano confinati in determinate zone del cervello dagli esperimenti nessuno però riusciva a spiegare quale meccanismo consentisse al cervello di conservare i ricordi fino a quando Pivram non applicò a questo campo i concetti dell'olografia egli ritenne che i ricordi non siano immagazzinati nei neuroni o in piccoli gruppi di neuroni ma negli schemi degli impulsi nervosi che si intersecano attraverso tutto il cervello proprio come gli schemi dei raggi laser che si intersecano su tutta l'area del frammento di pellicola che contiene l'immagine olografica quindi il cervello stesso funziona come un ologramma e la teoria di Pivram spiegherebbe come il cervello riesca a contenere una tale quantità di ricordi in uno spazio così limitato quell'umano può immagazzinare circa 10 miliardi di informazioni durante la durata media della vita approssimativamente l'equivalente di 5 edizioni dell'enciclopedia treccani e se non avete presente quanto può occupare di spazio un'edizione dell'enciclopedia treccani veramente che siamo molto molto ingombranti naturalmente nel senso dell'ingombro fisico ma non certo del contenuto d'altro canto si è scoperto che gli ologrammi possiedono una sorprendente possibilità di memorizzazione infatti semplicemente cambiando l'angulazione con cui due raggi laser colpiscono una pellicola fotografica si possono accumulare miliardi di informazioni in un solo centimetro cubico di spazio e questo è sorprendente la nostra stupefacente capacità di recuperare velocemente una qualsivoglia informazione dell'enorme magazzino cerebrale risulta spiegabile e più facilmente supponendone un funzionamento secondo principi olografici inutile quindi scartabellare nei meandri di un gigantesto archivio alfabetico centrale perché ogni frammento di informazione sembra essere sempre istantaneamente correlato a tutti gli altri e si tratta forse del massimo esempio in natura di un sistema a correlazione incrociata nell'ipotesi di Pribram si analizza la capacità del cervello di tradurre la valanga di frequenze luminose sonore eccetera ricevute tramite i sensi nel mondo concreto delle percezioni quindi codificare e decodificare fungendo da strumento di traduzione per convertire un ammasso di frequenze prive di significato in un'immagine coerente il cervello usa gli stessi principi olografici per convertire matematicamente le frequenze ricevute in percezioni interiori a proposito degli esperimenti c'è un famoso esperimento che si chiama quello del cervello rimescolato un certo signore che si chiamava Paul Pitch critico verso la teoria olografica della mente provò a confutarla e poiché aveva scoperto che le salamandre sono capace di ampia capacità di rigenerazione del tessuto nervoso un po' anche come le lucertone perdono la coda poi riquesce ma le salamandre in modo particolare del tessuto nervoso quindi nervi e cervello ipotizzò che la localizzazione delle funzioni cerebrali potesse essere evidenziata scambiando fra loro parti di cervello lo fece sezionando il cervello di alcune salamandre in parti uguali per poi risistemarle nella scatola cranica ruotate cioè scambiate di posto e così via e questo signore si aspettava di osservare gravi disfunzioni o strani comportamenti invece la maggior parte delle salamandre continuò a comportarsi come prima ma col cervello umano sarebbe impossibile perché chiaramente privo di doti auto-rigenerative vi è un'impressionante quantità di dati scientifici a conferma della teoria di Pribran ormai condivisa da molti altri neurofisiologi il ricercatore italo-argentino Iugo Zuccarelli per esempio ha applicato il modello olografico ai fenomeni acustici incuriosito del fatto che gli umani possono localizzare la fonte di un suono senza girare la testa pur sordi da un orecchio mi risulta che ciascuno dei nostri sensi è sensibile ad una varietà di frequenze molto più ampie ad esempio il nostro sistema visivo è sensibile a frequenze sonore il nostro fatto percepisce anche le cosiddette frequenze osmiche e persino le cellule biologiche sono sensibili ad una vasta gamma di frequenze tali scoperte suggeriscono che è solo nel dominio olografico della coscienza che tali frequenze possono venire vagliate e suddivise quindi si parla di suoni olografici o meglio olofonici vi ricorderete che una delle prime trasmissioni che abbiamo fatto seguendo le conferenze del professore Emilio Del Giudice abbiamo parlato di domini di coerenza non solo dell'acqua ma della materia dove abbiamo visto molte spiegazioni relative a come agiscono gli scambi naturalmente chimici e l'importanza della parte elettrica seppure di bassissima potenza che è quella che serve per dare impulso a questi scambi allora la realtà esiste o non esiste l'aspetto più sbaloriditivo del modello cerebrale olografico di Pribram è ciò che risulta unendolo alla teoria di BEM se la concretezza la concretezza del mondo non è altro che una realtà secondaria e ciò che esiste non è altro che un turbine olografico di frequenze e se persino il cervello è solo un ologramma che seziona alcune di queste frequenze o un lettore di ologrammi come altri dicono trasformando quindi le frequenze in percezioni sensoriali cosa resta della nostra realtà oggettiva in parole povere la nostra realtà oggettiva non esiste come d'altro canto come sostenuto dalle religioni e dalle filosofie orientali il mondo materiale è un'illusione noi stessi pensiamo di essere entità fisiche che si muovono in un mondo fisico ma tutto questo è pura illusione in realtà siamo una sorta di ricevitori che galleggiano in un mare di frequenze e ciò che ne estraiamo lo trasformiamo magicamente in realtà fisica quindi siamo uno dei miliardi di mondi esistenti nel super ologramma questo impressionante nuovo concetto di realtà è stato battezzato paradigma olografico e sebbene diversi scienziati lo abbiano accolto con scetticismo ha entusiasmato molti altri un piccolo ma crescente gruppo di ricercatori è convinto si tratti del più accurato modello di realtà finora raggiunto dalla scienza in un universo in cui le menti individuali sono in effetti porzioni indivisibili di un ologramma e tutto è infinitamente interconnesso i cosiddetti stati alterati di coscienza potrebbero semplicemente essere il passaggio ad un livello olografico più elevato se la mente è effettivamente parte di un continuum di un labirinto collegato non solo ad ogni altra mente esistente o esistita ma anche a ogni atomo organismo o zona nella vastità dello spazio ed al tempo stesso il fatto che sia capace di fare delle incursioni in questo labirinto e di farci sperimentare delle esperienze stracorporee questo non sembra più così strano il paradigma olografico presenta implicazioni anche nelle cosiddette scienze pure come la biologia se la concretezza della realtà non è altro che una illusione olografica non potremmo più affermare che la mente crea la coscienza cioè cogito ergo sum al contrario sarebbe la coscienza a creare l'illusoria sensazione di un cervello di un corpo e di qualunque altro oggetto che ci circondi e che noi interpretiamo come fisico una tale rivoluzione nel nostro modo di studiare le strutture biologiche spinge i ricercatori ad affermare che anche la medicina e tutto ciò che sappiamo del processo di guarigione verrebbero trasformati dal paradigma olografico infatti se l'apparente struttura fisica del corpo non è altro che una proiezione olografica della coscienza risulta chiaro che ognuno di noi è molto più responsabile della propria salute di quanto riconoscano le attuali conoscenze nel campo della medicina quelle che noi ora consideriamo guarigioni miracolose potrebbero in realtà essere dovute ad un mutamento dello stato di coscienza che provochi dei cambiamenti nell'ologramma corporeo allo stesso modo potrebbe darsi che alcune controverse tecniche di guarigione alternative come la visualizzazione per esempio risultino così efficaci perché nel dominio olografico del pensiero le immagini sono in fondo reali quanto la realtà la realtà che percepiamo quindi è solo un'illusione nella prossima puntata parleremo di questo e affronteremo il tema anche della creazione vi ringrazio cari amici perché ho visto che nonostante la mia latitanza da questa radio mi avete seguito comunque e avete rispolverato parecchie delle precedenti puntate e molti di voi sono entrati nel novero dei fedeli di questa radio e questo per me è sempre una grande soddisfazione spero che il 2018 ci consenta di vedere la scienza che rimane ripeto un caposaldo e quello che saranno le scoperte nuove della scienza ma di poterle vedere con un modo diverso di guardare quindi un modo che sia legato certo alla fisica quantistica perché ormai abbiamo visto che questa è la fisica che ci consente di spiegarci molte cose che fino ad oggi non riuscivamo a spiegarci ma anche perché ormai la fisica quantistica e la spiritualità credo vadano di pari passo vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata questo è l'iscrizai 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 Grazie a tutti.